Un nuovo appuntamento questa domenica 2 aprile con la stagione invernale concerti della Società dei Concerti. Questa volta la location sarà il Museo Diocesano. A quale concerto potremo assistere questa domenica? Questa domenica potremo assistere a un concerto di natura operistica. Infatti è l'opera in salotto dove un trio di pianoforte, flauto e soprano sarà impegnata in aree d'opera con testi e musiche di Verdi, Rossini, Bellini. Quindi aree d'opera molto importanti, Castadiva, insomma cose di questo genere. Quindi è una bellissima forma di concerto orchestrale e vocale che sarà fatto alle ore 17 lì al Museo Diocesano della Spezia. Non sarà però l'ultimo appuntamento perché ce ne saranno anche altri due in due location differenti. Sì, questa settimana è una settimana molto piena. Infatti venerdì 7, questa volta alle ore 21, nella chiesa di San Giovanni Agostino, in collaborazione con il Conservatorio Puccini della Spezia, verrà eseguito lo Stabat Mater di Boccherini. Lo Stabat Mater è una preghiera medievale che però ha avuto tante tradizioni musicali, da Vivaldi a Pergolesi, Rossini e noi questa volta l'orchestra diretta dal maestro Di Stefano farà quella di Boccherini. L'altro impegno molto bello sarà invece domenica 9 e questa volta seremo al CAMEC, al Museo di Arte Moderna e Contemporanea, con due pianoforti dove si esibiranno il maestro Giuseppe Bruno e il maestro Vincenzo Maxia in due bellissimi lavori che sono stati fatti traendo lo spunto dal Faust di Goethe. In particolare faremo la Faust Overture di Wagner, un lavoro giovanile di Wagner, e invece la Faust Symphony, che è forse l'opera più interessante e più bella di Liszt. Quindi appuntamento a questi tre eventi musicali di domenica 2, venerdì 7 e sabato e domenica 9 aprile. Quest'ultimo al Museo del CAMEC. gruppo Melope